Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio, sono come sempre il vostro Crossy96 e siamo su Magisite Per chi non lo sa, è un giochetto che trovate in Steam Io ce l'ho cercato ma scetaglie Allora, cosa bisogna fare? Praticamente è a scorrimento in 2D Bisogna arrivare alla fine del gioco sopravvivendo, non si può salvare né niente e quando si muore si perde il personaggio Io do un consiglio, sinceramente, tanto voglio finire il gioco, vorrei provare a finire il gioco, almeno arrivare molto in là Quindi l'unico modo che ho trovato per adesso per arrivare all'ultima, una delle ultime stanze è usare l'arciere perché è OP Poi, bisogna mettergli questo, questi sono tutti i capelli che io ho sbloccato giocando ovviamente intendo Però bisogna mettere questo perché per creare le frecce bisogna per forza usare minerali Quindi ho bisogno di tanti minerali e ho un compagno che mi dà uno di vita I stat sono importantissimi, il migliore è la pozione, questo che ha il 50% con l'ingrediente normale di creare una grande Che è una cosa buonissima E l'erba che ti dà il 50% di raccogliere due erbe invece che una Ho anche il drop dei mostri Però, visto che l'arciere come avete visto qua ha 1 e meno di vita, scusate E 4 più destrezza, questa qua comunque tendevo, come potete vedere E bisogna per forza, a parere mio, dargli vita Quindi io consiglio caldamente Scudo E cuore Appena esce No Ho detto scudo e cuore Così iniziate già il gioco con 10 di vita Ecco Vedete? Più 4 HP Più 2 HP E ricuperiamo un po' E il danno non è una sega ma vabbè Si farà tutto con calma Comunque Ora lo creo Lo chiamiamo anche Perché ci vuole vincere Quindi crossfire Ci sta Anzi crossfire Così diventiamo linea di fuoco Lo creo a tra pochissimo Ok eccoci qua Vediamo se è fattibile giocare Allora Io all'inizio Soprattutto con le cere Consiglio caldamente di Usare I bastoni Per tutta la gente che mi stavrà guardando Se stanno dire Cosa fai se un pirla ha fatto una spada Si lo so Ma Non mi farò la spada Ho bisogno di tutto il legno necessario Allora Con R Si apre il diventario Lag da paura Questi cazzi Quindi Teniamoci giù Questo Questo E facciamoci un piccone Non so spiegare i crafting Li guardate Mettete in pausa Al massimo il video E proprio In sé sono in effetti Abbastanza intuitivi Anche tipo Leggendaria Non so come ne frega Allora Ammazziamo Di matta a pig Con il bastone Te lo fico su per l'amco Bestia Allora Non ci facciamo Eh porca Lontana però Che ram di merda Dai Vieni qua So che mi vuoi uccidere Allora Tu hai 20 di vita Butto Allora Struzzetto 20 di vita 1 2 4 6 8 Più o meno 10 12 14 Su 16 No Ti ho fatto male Anche tu però Sei un stronzo 18 Doveste grippare Sì ma Con un 3 di vita Vabbè Intanto registerò Anche se crepo E non vado avanti Cioè Vado a stanza No Via tu Non so se faccio Ci un po' di danno Non so perché Non mi ha Non mi ha Fazzire di mente Allora 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 Comunque potete vedere È così La vita È la barra Rosso Ovviamente Il mana È quella blu La stamina Sono il Il piede Buu Morite Bravo Mi ha detto un'erba Le erbe sono per creare 6 pozioni Due erbe creano una pozione piccola Due pozioni piccole creano una grande Le pozioni piccole danno 2 di vita Le grandi ne danno 5 E per quello che serve Perché un fare più piccolo sarebbe 4 Invece con due grandi Ne recuperi 5 Il senso è quello Dopo Da quello che ho capito Più o meno dopo 5 minuti Che si è in una stanza È nasce automaticamente un boss Che vi shotta Quindi dovete anche fare velocemente Perché sono figli di puttana No eh Ristruggiamo tutto Allora Ok Via Via Non laggare Non laggare È anti Conveniente Non mi interessa Merda Le api No Sbagliato di sto gioco Secondo me È solo uno Che Tante volte All'inizio Nelle prime stanze Vi mettono le api Che non dovrebbe esistere In nessuna Ma porca E dillo Siamo stronzi Ma lo sappiamo Almeno Merda Ok Aspetta Dai Muoviti Se spari le paglie adesso Io ti Sdrummo la madre Questa scopera Che era un danno per due Ok Andiamo qua Ok Sì Abbastanza 15 Potrebbe bastare Ok Crepa 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 Perfetto Non ti risponziare anche te Direi che Curarci È il minimo Ok Ho ucciso Il primo boss In realtà Ma il primo boss È di run E mi si è rotta L'ascia Come giusto che sia Ok Ora direi di fare Una piccola run Uccidiamo Tempino Che mi servi Bravissima erba Vuoi daggare Cassa Non ho un precoglioni Del cassa Aiuto Torca Stoneblade Allora Tuketakete E tuket Tuffia Via qua E ho buttato giù Le robe Vero Si Porca E vabbè Però Ok Via Giù anche Perfetto Allora Ora Zottissimo Perché Devo andare Oltre Senza Soprita Nessuno Devo Devo Via Oddio Quanto Preciate Da sotto Non cagare Cazzo Tu No No È Deve Può Sbannare La minchia Vaffanculo Boh A tra poco Ok Eccoci qua Ok Vai Rupo Ho fatto un po' di male Vediamo se riesco a ucciderlo Così vi mostro anche l'altro boss Così vi mostro anche l'altro boss Un po' di male Ci va Dai A A e ce la faccio qua mi ha ucciso, va bene andò ok eccoci qua vediamo se è fattibile giocare allora io all'inizio soprattutto con le cere consiglio caldamente di usare i bastoni per tutta la gente che mi stava guardando sostanzialmente cosa fai se un pirla ha fatto una spada si lo so ma non mi farò la spada ho bisogno di tutto il legno necessario allora con R si apre diventario lag da paura quindi facciamoci un piccone non so spiegare i crafting li guardate le mettete in pausa al massimo il video e tipo in se sono in effetti abbastanza intuitivi e mi è venuta anche tipo leggendaria non so come ne frega allora immaginiamo immaginiamo con il bastone e lo fitto super lampo bestia allora non ci facciamo è corpia lontana però che ram di merda dai vieni qua ma so che mi vuoi uccidere allora tu hai venti di vita allora struzzetto hai venti di vita 1 2 4 6 8 più o meno 10 12 14 14 su 16 no ti ho fatto male anche tu però sei un stronzo 18 e dovresti creppare si ma con 3 di vita vabbè intanto registerò anche se crepo e non vado avanti cioè vado a stanze no via tu non so ti faccio 5 di damage perchè no a me non è possibile di me allora 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 come potete vedere è così la vita è la barra rossa ovviamente il mana è quella blu la stamina sono il il piede boom morite bravo l'erbe sono per creare 6 pozioni due erbe creano una pozione piccola due pozioni piccole creano una grande le pozioni piccole danno 2 di vita le grandi ne danno 25 e per quello che serve perchè fare due piccole sarebbe 4 invece con due grandi recuperi 5 il senso è quello dopo da quello che ho capito più o meno dopo 5 minuti che si è in una stanza è nasce automaticamente un boss che vi shotta quindi dovete anche fare velocemente perchè sono figli di puttana no eh tacchete ticchete tucchete cioppete 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 distruggiamo tutto mh allora ok via via non laggare non deve laggare è anti conveniente anti conveniente vabbè se cazzo ho detto non mi interessa ahhh merda le api no sbagliato di sto gioco secondo me è solo uno che tante volte all'inizio nelle prime stanze vi mettono le api che non dovrebbe esistere in nessuna ma porca e dillo siamo stronzi non lo sappiamo almeno merda ok aspetta dai muoviti se spari le paglie adesso io ti sdrumo la madre fesco perché era un danno per due ok andiamo qua ok si abbastanza quindi ci potrebbe bastare ok crepa 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 perfetto voglio che risponziare anche te si direi che curarci è il minimo ok abbiamo ucciso anche il primo boss in realtà ah il primo boss è il tirannide e mi si è rotta l'ascia come giusto che sia allora ok ora direi di fare una piccola run uccidiamo te meglio che mi servi bravissima erba ok non lagare mh uh cassa non rompre i coglioni del cassa aiuto porca stone blade mh 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 allora e che tacchete e tucchete e tucchete tuffia ah ok allora via qua e ho buttato giù le robe vero e vabbè però ok via tu anche perfetto vabbè ora ora zottissimo perchè devo andare oltre senza essere computare nessuno di quei due cose uff via oddio quante pesette da sotto non cagare cazzo tu no no è dei poti sbannare la minchia vaffanculo boh a tra poco ok li eccoci qua ok vai vai lupo vediamo se riesco a ucciderlo così vi mostro anche l'altro boss non è eserci è è ma qui non sul è Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio, sono come sempre Volstocrossi96 e siamo su Magisite, per chi non lo sa è un giochetto che trovate in Steam, io ce l'ho croccato ma scetaglie, allora, cosa bisogna fare? Praticamente è a scorrimento in 2D, bisogna arrivare alla fine del gioco sopravvivendo, non si può salvare né niente, quando si muore si perde il personaggio Io do un consiglio, sinceramente, tanto voglio finire il gioco, vorrei provare a finire il gioco, almeno arrivare molto in là Quindi l'unico modo che ho trovato per adesso per arrivare all'ultima, una delle ultime stanze è usare l'arcere perché è OP Poi, bisogna mettergli questo, questi sono tutti i capelli che io ho sbloccato giocando ovviamente intendo, però Bisogna mettere questo, per creare le frecce bisogna per forza usare minerali, quindi ho bisogno di tanti minerali e ho un compagno che mi dà uno di vita I stat sono importantissimi, il migliore è la pozione, questo, che ha il 50% con ogni ingrediente normale di creare una grande, che è una cosa buonissima E l'erba, che ti dà il 50% di raccogliere due erbe invece che una, o anche il drop dei mostri Però, visto che l'arcere, come avete visto qua, ha uno in meno di vita, scusate E 4 più destrezza, questa qua comunque tendevo, come potete vedere E bisogna per forza, a parere mio, dargli vita, quindi io consiglio caldamente Scudo e cuore, appena esce No Ho detto scudo e cuore Così iniziate già il gioco con 10 di vita, ecco Vedete, più 4 HP, più 2 HP e ricuperiamo un po' e il danno, non è una sega, ma vabbè Si farà tutto con calma Comunque, ora lo creo, lo chiamiamo anche, perché ci vuole vincere, quindi crossfire Ci sta, anzi crossfire, così diventiamo linea di fuoco Lo creo a tra pochissimo Ok, lì eccoci qua Ok Vai lupo Ho fatto un po' di male Vediamo se riesco a ucciderlo Così vi mostro anche l'altro boss Un pochissimo Dai Dovido che ce la faccio Ma ucciso Vabbè, non dopo Voce Mi